ciao a tutti andiamo a vedere insieme questa tenda per doccia marcata big mida la tenda arriva all'interno di questa confezione busta di plastica ed ha le dimensioni d'aperta di 200 per 180 centimetri la tende di colore bianco semi trasparente il materiale non sembra essere nemmeno scadente e nemmeno troppo sottile ma andiamo a vedere insieme ecco come potete vedere questo è lo spessore una volta che appunto ci si lava come potete vedere non dovrebbe vedersi sostanzialmente la persona che si sta lavando dietro la tenda proprio ci si attacca ovviamente poi si vede ma hanno una distanza già di qualche centimetro la persona non si dovrebbe comunque vedere detto ciò arrivano anche 12 anelli di plastica una plastica dura ne vado a tirare fuori uno ecco qua anelli che appunto permettono di essere inseriti all'interno dei fori di metallo presenti sulla tenda di attaccarla poi successivamente all'asta della doccia gli anelli di ferro per intenderci sono questi qua e devo dire inoltre per concludere che non ho trovato degli odori particolari fastidiosi di plastica